Molfetta si prepara alla visita di Papa Francesco che torna in Puglia. C'è grande attesa per questo evento in programma il prossimo 20 aprile in occasione dell'anniversario della morte di Don Tonino Bello. Intanto per lunedì 26 marzo il sindaco di Molfetta Minervini ha convocato una conferenza stampa. E' con grande gioia che la comunità di Molfetta attende l'arrivo di Papa Francesco il prossimo 20 aprile, un evento straordinario che permetterà alla nostra città, ai fedeli e ai cittadini molfettesi di scrivere una pagina significativa della nostra storia. Queste sono le parole del sindaco Tommaso Minervini in vista dell'arrivo di Papa Francesco a Molfetta nel giorno del venticinquesimo anniversario della morte di Don Tonino Bello. Un evento che non ha precedenti, scrive il primo cittadino. Molfetta accoglierà il santo padre che subito dopo l'atterraggio a Molfetta salutera i fedeli a bordo della sua papa mobile. Si da consentire a tutta la cittadinanza e a tutti i visitatori provenienti dalle altre città di poter vedere salutare Papa Francesco. Il Papa celebrerà la Santa Messa all'aperto. Per l'occasione sarà appositamente allestito un grande palco sul borgo con alle spalle piazza Minuto Pesce lo sguardo sul luogo in cui 25 anni fa, il 20 aprile del 1993, una folla commossa salutava il suo vescovo. Il traffico veicolare sarà chiuso già dalla sera del 19 aprile e fino a tutta la giornata di venerdì 20 così come il mercato ittico. Gli uffici pubblici, istituti scolastici rimarranno chiusi dalle 14 di giovedì 19 aprile. Nessuna restrizione di orario invece per gli esercizi commerciali della zona. Per rafforzare i controlli e collaborare al corretto svolgimento dell'evento verranno inviate dalla protezione civile ulteriori 800 unità. Per la giornata di martedì è previsto un sopralluogo della stessa protezione civile per l'organizzazione del lavoro. Subito dopo Pasqua invece sarà attivo il servizio di accreditamento e di accoglienza per accedere alle zone interessate dell'evento e vivere con gioia questa giornata che rimarrà nella storia collettiva. Intanto per lunedì 26 marzo il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini ha convocato una conferenza stampa.